Ennesimo suicidio in carcere. Un detenuto, di cui al momento non si conosce l'identità, si è ucciso nella prima sezione del carcere di Vasto, impiccandosi nella sua cella. A renderlo noto è il sindacato autonomo di polizia penitenziaria. Il suicidio costituisce solo un aspetto di quella più ampia e complessa crisi d'identità, sottolinea il Comitato Nazionale per la Bioetica, che il carcere determina alterando i rapporti e le relazioni, disgregando le prospettive esistenziali, affievolendo progetti e speranze. Proprio il suicidio è spesso la causa di morte più comune nelle carceri. Negli ultimi 20 anni sono stati più di 23.000 i tentati suicidi e quasi 190.000 gli atti di autolesionismo nei penitenziari. L'amministrazione penitenziaria non ha affatto migliorato le condizioni di vivibilità nelle celle, ha dichiarato il segretario generale del SAP e Donato Capece, il quale propone di consentire maggiori possibilità lavorative ai detenuti e non solo alle dipendenze del DAP. E il Covid non ha fatto altro che peggiorare la situazione nelle carceri. La notizia del suicidio a vasto arriva nei giorni del primo anniversario delle rivolte dei detenuti sedate dalla Celere, in cui persero la vita 14 detenuti a Modena. Benché i report ufficiali attribuiscano le morti all'abuso di farmaci, l'esposto in procura di cinque detenuti trasferiti poi ad Ascoli attribuisce responsabilità alle forze dell'ordine, raccontando di pestaggi di massa su persone inermi, di spari anche ad altezza d'uomo con le armi in dotazione, di manganellate che hanno causato traumi e lesioni che complice l'omissione di soccorso hanno portato alla morte dei detenuti. In seguito all'esposto i cinque sono stati trasferiti nuovamente a Modena e posti in isolamento, mentre la procura ha richiesto l'archiviazione del procedimento.